A Monta 32.000 euro per ognuno dei nove comuni beneficiari il fondo stanziato nell'ambito del protocollo d'intesa per spiagge sicure 2020, sottoscritto oggi in prefettura Salerno dai sindaci di Agropoli, Minori, San Giovanni, Appiro, Vibonati, Pietri sul mare, Casalvelino, Pollica, Castellabate ed il vice sindaco di Praiano. Tutti hanno deciso di utilizzare le risorse non solo contro la vendita abusiva sulle spiagge che è la mission principale per cui nasce la progettualità spiagge sicure ma anche per aiutare il controllo e il rispetto delle norme anti-covid come ha ricordato nell'intervista a margine della sottoscrizione il prefetto di Salerno Francesco Russo. Il protocollo che sottoscriviamo stamattina con tanti sindaci, nuovi sindaci della provincia di Salerno è un ulteriore passaggio, un ulteriore anno in cui questo programma ministeriale che è partito tre anni fa si estende ancora di più. Spiagge sicure, il concetto in se stesso già presenta tantissimo significato e nasce come iniziativa contro l'abusivismo commerciale ma evidentemente adesso assume anche nuovi significati, si estende un pochettino a tutto il concetto di sicurezza sulle spiagge. I progetti che sono stati presentati dai vari comuni e che sono finanziati per tutti i comuni d'Italia con 32 mila euro per ogni comune, che è una cifra significativa, sostanzia soprattutto nel potenziamento degli uomini o dei mezzi per tenere sotto controllo le spiagge. Voi potete ben comprendere come sia particolarmente significativo quest'anno avere più personale e anche più strumenti sulle spiagge in modo tale da dare quel senso di sicurezza ai cittadini che riguardano non solo l'aspetto dell'abusivismo commerciale ma un po' in generale. Noi siamo sicuri, conoscendo anche il lavoro che stanno facendo i sindaci, al di là di tutta l'epolemico che sta facendo un lavoro straordinario in questi mesi, affrontare questi fatti nuovi, questa situazione assolutamente sconosciuta a tutti non è stato facile e non lo è ancora adesso, anzi forse la gestione adesso è ancora più complessa. Però noi stiamo notando praticamente, al di là di qualche situazione un po' difficile, ogni tanto voi sapete, ve la ricordo anche, comunque una grossa consapevolezza da parte dei primi cittadini, da parte anche delle comunità. Bisogna, ecco, noi richiamiamo sempre l'attenzione dei cittadini, dubbiamente non è facile, non è facile gestire perché oltretutto noi abbiamo alcuni arenili molto ampi, alcune spiagge che sono più piccole e fra l'altro dei posti meravigliosi in cui tutti vogliono andare. Ecco, il tutelarsi nei confronti, tutelare se stesso e tutelare gli altri, tutelarsi nei confronti degli altri è un aspetto prima di tutto a carattere individuale, cioè serve soprattutto alla salvaguardia personale, quindi cercare di mantenere quelle che sono le situazioni relative al distanziamento, alla cautela, all'attenzione su tutto, è un bene prima di tutto per se stessi perché poi evidentemente si riverbera positivamente sulla società e vediamo che questo nostro avversario così, diciamo, insidioso possa tornare, diciamo, ad imperare. Ricordiamo bene tutti noi che cosa è stata la nostra vita per più di due mesi, insomma, quindi evitiamo che questo possa ripresentarsi. Questa intesa ha un significato diverso per il comune di Praiano, come ha ricordato il vice sindaco Anna Maria Caso, chiamata a fare le funzioni da primo cittadino dopo la sospensione del sindaco coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Il mio ruolo è piuttosto delicato perché chiaramente Praiano è il cuore della costiera amalfitana, Praiano è un comune sano, Praiano è un comune trasparente, Praiano è un comune che ha sempre lavorato. Praiano è una comunità di persone laboriose, oneste e che quindi, voglio dire, sicuramente dimostreremo e il nostro sindaco dimostrerà che tutto ciò che, insomma, che ci è capitato è stato soltanto, insomma, un infelice passaggio, ma che tutto ritornerà alla normalità. E noi stiamo lavorando allacremente per continuare, per dare una continuità all'amministrazione in un momento e soprattutto fiducia a chi ci sta intorno, prima di tutte i cittadini, ma anche alle istituzioni che si sono sempre rapportate con noi in modo sereno, in modo costruttivo e con le quali abbiamo sempre collaborato e realizzato tanto.